Salve, salve e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, è il primo momento di un percorso molto lungo che ci vedrà affrontare la lettura leggermente commentata del testo unico del pubblico impiego, cosiddetto testo unico del pubblico impiego, in realtà il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Una delle tante, tante riforme delle cosiddette riforme Bassanini o riforme del governo che si è avuto in Italia fra la fine del millennio e l'inizio del nuovo millennio che ha portato appunto alla redazione di questo testo, un testo molto complesso ed articolato di cui andiamo a vedere il primo articolo introduttivo e poi piano piano nel corso dei prossimi giorni vedremo i vari articoli, complessivamente una novantina di articoli, ora vedete l'ultimo è il 73 ma ci sono anche dei bis, dei ter, dei quater, dei quinquies. Allora, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fra l'altro un testo in corso di aggiornamento è costantemente aggiornato in piccoli commi, in alcune disposizioni, quindi mi raccomando a prendere sempre il testo coordinato della normativa. Vediamo cosa ci dice il primo articolo all'interno del titolo primo, principi generali, articolo 1, finalità ed ambito di applicazione. Poiché questo documento rappresenta una sorta appunto di testo unico, di raccolta di norme vigenti fino a quella data e contenute in altre disposizioni di riforma del pubblico impiego, vedete, trovate fra parentesi indicate le norme richiamate e sostituite, articolo 1 del decreto 29-93, la prima riforma di privatizzazione del pubblico impiego, e l'articolo 1 del decreto 80-98, che è l'avvio del processo di riforma del cosiddetto percorso di riforme bassanile. Comma 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo della Costituzione, in realtà poi diventato comma secondo della Costituzione dopo la riforma e la modifica dell'articolo 97, al fine di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici. Vediamone, punto per punto, quindi siamo nell'ambito di una norma di attuazione di una norma costituzionale. Questo è importante, vedete il richiamo all'articolo 97 della Costituzione, imparzialità e buon andamento, sono le due tematiche fondamentali, i due criteri di azione amministrativa anche dal punto di vista organizzativo. Attenzione, tenuto conto delle autonomie locali e delle regioni, perché? Perché il pubblico impiego o la disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni non è una materia di competenza esclusiva statale. Quindi lo Stato, dette principi generali, ma c'è riconosciuta dalla Costituzione una forte autonomia organizzativa. Quindi queste sono norme che a livello di autonomie territoriali soprattutto riscontrano una forte capacità di autoregolazione, anche se vedremo che le norme sono talmente puntuali, i principi sono talmente forti che è difficile rinvenire nei principi e nelle disposizioni generali un margine significativo di autonomia, mentre poi in concreto ogni organizzazione pubblica ha la propria struttura organizzativa. Leggiamo però il punto A. Il punto A a crescere l'efficienza delle amministrazioni. Cosa significa? Che in quel momento, in quel contesto, nel 2001, la pubblica amministrazione italiana era al di sotto della media comunitaria. Quindi andare, tornare verso la media, se non superare la media comunitaria di efficienza dell'azione amministrativa. B. Razionalizzare il costo del lavoro pubblico contenendo la spesa pubblica per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica. Questo è un altro tema importante perché la spesa del personale è una spesa che ingessa l'azione amministrativa. È una spesa difficilmente gestibile in termini di semplificazione da parte delle amministrazioni. personale non si può licenziare ad libidum, a piacere. E quindi una volta che si è formato uno zoccolo duro di spesa del personale, poi il margine di manovra delle pubbliche amministrazioni è ridotto. Quindi, attenzione, la norma non dice ridurre la spesa del personale, razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa complessiva per il personale. Quindi, un miglioramento nella gestione di questa componente. C. Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniforme rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori, nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. Migliore utilizzazione delle risorse umane. Il risorse umane è un concetto spesso criticato come un concetto che, diciamo, trasforma le persone in oggetti di utilizzo, ma viene correntemente utilizzato in organizzazione, quindi lo utilizziamo anche noi. Formazione e sviluppo professionale. Anche questo è un tema importante. Ci sono norme che prevedono iniziative di formazione obbligatoria per il personale della pubblica amministrazione. Sicuramente il tema della formazione è un tema che vede ancora molte amministrazioni indietro. Spesso la formazione è vissuta come un orpello, come una perdita di tempo rispetto all'azione amministrativa. Questo va riconosciuto e spesso non viene fatta per molti anni o non viene fatta con modalità, diciamo, utili, ma come adempimento formale o non tarata sulle esigenze delle amministrazioni stesse, a differenza di quello che avviene nel privato. Ecco perché, dopo la privatizzazione, applicando condizioni uniforme rispetto a quello del privato. Cioè, la logica del legislatore è il privato sia un benchmarking, cioè sia un punto di riferimento per l'azione amministrativa. Perché è più efficiente? Perché funziona meglio nella gestione delle risorse umane. Non sempre, non dappertutto, non è un mito. Sicuramente in quel contesto organizzativo, in quella situazione organizzativa e forse anche in quella attuale, c'è ancora molto da imparare dall'esperienza privata. Inoltre, un altro tema che è centrale in tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego, che è quello della parità di genere o delle pari opportunità e della non discriminazione e del benessere organizzativo. L'ambiente di lavoro è anche un ambiente nel quale si possono formare appunto forme di discriminazione. Discriminazione nei confronti delle lavoratrici, pensate appunto alle azioni nei confronti di personale che è prossimo alla maternità o che non ha sbocchi di carriera in alto, diciamo verticali, perché di genere femminile. Sappiamo che la pubblica amministrazione oggi vede almeno circa il 60% di personale femminile a livelli diciamo medio-bassi, a livelli più alti di carriera, dirigenziali e oltre, la percentuale scende al 40%. Quindi sicuramente abbiamo ancora un gap dovuto al blocco, alla crescita verticale di persone di genere femminile. Ma la discriminazione può anche essere non necessariamente diciamo di genere maschile femminile, anche di chi lo riconosce un terzo genere, di persone diciamo diversamente abili, di persone che si riconoscono in altri generi. E questo ovviamente essendo un gruppo organizzato e potendo creare anche problematiche organizzative, vuole essere eliminato da questi principi introduttivi dell'articolo 1. Comma 2. Chi sono le amministrazioni pubbliche? Perché la disciplina del testo unico si applica alle pubbliche amministrazioni. Allora il legislatore richiama, e attenzione questa norma è fondamentale perché la troviamo citata centinaia di volte nei testi normativi, ogni volta che il legislatore deve citare le pubbliche amministrazioni richiama l'articolo 1. Comma 2 del testo unico del pubblico impiego. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorsi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi di case popolari, le camere di commercio, industria, artigianata e agricoltura, le loro associazioni e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN, le agenzie fiscali e le altre agenzie di cui ha il decreto legislativo 300 del 99. Mancano le città metropolitane perché sono nate dopo ma anche le città metropolitane fanno parte di questo elenco. Fino alla revisione organica della disciplina di settore le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Quindi vedete una definizione molto molto larga e molto allargata del concetto di pubblica amministrazione, quindi non soltanto le pubbliche amministrazioni istituzionali ma anche gli enti pubblici e anche gli enti pubblici non economici. Le disposizioni, comma 3, del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi significa che sono vincolanti per le regioni nell'ambito della potestà legislativa concorrente ma le regioni possono dettare norme di dettaglio. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 421 del 92, legge delega di riforma della privatizzazione del pubblico impiego e successive modificazioni e dell'articolo 11,4 della legge 5997 che è la legge Bassanini di delega al governo di riforma della disciplina del pubblico impiego, quindi vedete i due caposaldo delle leggi delega di riforma in materia di pubblico impiego, costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e le province autonome norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e quindi anche per esse vincolanti. Quindi un insieme di principi fondamentali, noi leggeremo oggi e nelle prossime incontri una serie di principi fondamentali che di fatto sono vincolanti per tutti gli enti, sia per le regioni, anche per le regioni a statuto speciale, che ovviamente per gli enti locali e tutti gli altri enti pubblici. Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito e stanno seguendo questa iniziativa, se vi piace vi invito a mettere mi piace su YouTube o condividi e a iscrivervi al canale per ricevere le notifiche, tutte le volte che faremo una diretta, normalmente una volta al giorno, gli articoli, abbiamo detto, sono tanti, quindi i prossimi tre mesi li dedicheremo a questo percorso di lettura durante il quale sicuramente alcune di queste disposizioni cambieranno e quindi faremo nuove incontri di aggiornamento. Vi invito, se non lo conoscete, a vedere le altre rubriche di Chiarelli Legge, la prima Chiarelli Legge, la legge 241 del 90 e Chiarelli Legge, il codice di comportamento. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci! Grazie!